nella schermata principale di tascabile in alto a destra è possibile accedere alla guida in linea tascabile è essenzialmente uno strumento di facile utilizzo ma che necessita comunque di un tutoraggio per l'insegnamento delle diverse funzionalità c'è la possibilità quindi di andare a verificare andare ad imparare attraverso questa guida tutte le diverse funzioni dello strumento da il mio nome alla raccolta la gestione delle attività l'associazione dell'attività il calendario di oggi e le valutazioni in ogni funzione sono state inserite poi all'interno delle specifiche per capire quali sono le modalità di utilizzo delle funzioni stesse e dello strumento in generale